Belen Rodriguez ha optato per un cambio radicale tagliando i capelli cortissimi al figlio Santiago. Il risultato è stato sorprendente, poiché ora il bambino assomiglia in modo straordinario al suo papà. Solitamente, decidere di tagliare i capelli a un bambino può rappresentare una sfida, ma spesso è necessario per mantenere ordine e pulizia. Alcuni genitori, però, preferiscono lasciare ai loro figli maschi una chioma più lunga, rinunciando alla visita dal barbiere o alle forbici della mamma. Questa sembra essere stata la tendenza seguita da Belen Rodriguez e Stefano De Martino per il loro figlio Santiago. In passato, avevano persino optato per arricciare i suoi capelli, rendendoli vivaci e più lunghi in ogni foto condivisa sui social. La somiglianza tra padre e figlio non è un mistero. Oltre agli evidenti tratti fisici, i due condividono uno stile di vita, un modo di parlare e di comportarsi che li avvicina notevolmente. Il loro legame è così forte che a volte sembrano più amici che padre e figlio, pur rispettando i ruoli familiari. Dopo un weekend passato insieme al papà, Santiago è tornato con la mamma. Oggi, Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno lo hanno accompagnato a scuola, mostrando ai loro seguaci il nuovo taglio di capelli. La nuova acconciatura richiama i tratti distintivi di Stefano De Martino ai tempi iniziali della sua notorietà, quando il pubblico italiano lo conobbe come concorrente nella scuola di amici di Maria De Filippi. Sarà questo un nuovo capitolo nel look del piccolo Santiago? O i capelli cresceranno ancora per un cambiamento totalmente inedito? Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.